Signori Magnolia, film del 99 con Tom Cruise e un super cast. Sono più di tre ore questo film, al momento lo trovate su RaiPlay ma quando vedrete la recensione non ci sarà più almeno. Però questo film è da comprare, è un 8, forse anche 8.1, non di più perché a un certo punto diventa veramente tanta roba. Ci potevano fare una serie da questo film, tanta roba che c'è dentro, è da vedere, non si può negare che è un bel filmettino. Bisogna starci molto all'occhio, ci sono tante tante cose, consigliato. E basta così, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like. Ciao ciao!